Ciao, come va? Ciao, tutto bene, grazie. Da quanto fai volontariato? Circa tre anni. Quando non sei volontario, che tipo sei? Sono una ragazza comune. Descrivi con due aggettivi il tuo essere volontario. Felicità. E intraprendenza. È più difficile essere volontaria o studiare all'università? Studiare all'università. Quanto da 1 a 10 sei soddisfatta di essere volontaria? 10. Cosa rispondi a chi ti dice che i volontari sono degli illusi, che tanto non si cambiano le cose? Innanzitutto per cambiare le cose bisogna avere una buona base, quindi noi creiamo la base e poi col futuro si vedrà. Cosa rispondi a chi ti dice che voi volontari e vi fate solo sfruttare? Se tanti servizi non sono a pagamento è anche grazie a questo sfruttamento, quindi non è assolutamente uno sfruttare ma aiutare il prossimo. La reazione degli altri quando gli dici che sei volontaria? Ma veramente, ma chi trovo a fare? Il momento in cui hai pensato, ma chi me l'ha fatto fare? Quando non riesco a far conciliare tutti quanti gli impegni tra lavoro, università. Volontariato vuol dire? Vuol dire aiutare, esserci per altre persone. Se dovessi contare tutte le persone che hai incontrato in questi anni durante il servizio, quante sarebbero? Più di 100, sicuro. Qual è stata la difficoltà più grande che hai incontrato in questi anni di volontariato? Riuscire a far conciliare tutti quanti gli impegni tra università, lavoro, studiare. Che immagine ti fa venire in mente la parola impegno? Costanza, una persona che riesce a fare qualcosa dall'inizio alla fine. Da 1 a 10, quanta costanza hai nel ruolo che ricopri? 9 e mezzo 10? Da 1 a 10, quanto sei contenta di quello che fai? 9 perché potrei dare forse di più. Fai un saluto da volontaria?